Regolarmente aperti con gli scaffali riforniti e con le misure di sicurezza e di igiene già attive da giorni. I supermercati sono sotto i riflettori dall'inizio dell'emergenza coronavirus ma in attesa di eventuali nuove disposizioni del governo la situazione è sotto controllo. Ci si può andare ma si consiglia in quello più vicino a casa e rispettando le distanze di sicurezza dagli altri clienti. Casse, carrelli, cestini, bilance e maniglie dei frigoriferi qui vengono disinfettati ogni ora e mezza. Il personale che vuole può utilizzare guanti e mascherine fornite dall'azienda e anche molti clienti fanno lo stesso. Noi abbiamo adottato fin da subito un protocollo per il nostro personale di igienizzazione sia dei carrelli dei cestini e poi abbiamo messo a disposizione del cliente all'entrata un igienizzante mani. Abbiamo messo un igienizzante carrelli e cestini e la disponibilità di utilizzare il guanto da subito in maniera che il cliente deve essere assolutamente sentirsi tranquillo nei nostri negozi e poi a negozio chiuso operiamo con la fumigazione che è una sanificazione totale del punto vendita che viene fatto alla sera. Durante la notte un macchinario emana un fumo igienizzante che si deposita ovunque e sanifica. Ecco il consiglio semmai è quello di utilizzare anche gli orari meno consueti all'apertura e a ridosso della chiusura per acquistare e fare un po di scorta di qualche prodotto per uscire meno di casa. Sarebbe importante avere un afflusso un po più diluito nella giornata quindi iniziare già dal mattino presto, non preoccuparsi di arrivare presto perché la gente non trova la merce ma si potrà trovare anche se uno dovesse venire verso tardi alla sera e poi effettivamente non magari frequentare giornalmente per le piccole spese, magari fare una spesa un po più ampia. Grazie. 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 Grazie.